Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Partiamo con l'immagine da satellite che ci mostra l'Italia sempre alle prese con l'alta pressione africana. Infatti il sole resta il protagonista da nord a sud anche nelle prossime ore. Giusto qualche annovolamento di tipo medio-basso ha insistito questa mattina a ridosso delle Alpi Piemontesi e anche sull'entroterra campano. Per il resto poco da segnalare, tanto sole, ma il gran caldo che insiste sull'Italia infatti questo campo di alta pressione tra giovedì e venerdì insisterà ancora una volta sul nostro paese anche se sulle regioni alpine ci sarà qualche infiltrazione più instabile che causerà dei temporali di calore. Vediamo dal punto di vista delle temperature quanto caldo farà sul nostro paese. Infatti a partire da domani le temperature potranno anche raggiungere i 36-38 gradi, specie sul versante terrenico su buona parte della Valpadana con AFA particolarmente accentuata durante le ore serali nei grossi centri urbani. La tendenza in vista del weekend vedrà ancora il persistere di questo campo anticiclonico su gran parte d'Italia anche se la pressione inizierà a scendere al nord per effetto di questo peggioramento che dal nord Europa si avvicinerà all'arco alpino causando dei temporali localmente anche di forte intensità che potranno poi sconfinare anche le zone prealpine di pianura nel corso di sabato sera nella notte e poi su domenica con un calo delle temperature atteso domenica su parte del nord Italia. Ma per saperne di più consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.